Bentornati a tutti ragazzi nel canale di 2 semplici ragazzi Oggi partiamo con Mission Chief Ufficialmente, dato che siamo sbarcati in Italia, come potete vedere, con un secondo profilo Sempre nell'alleanza 112 Team Italy Team 112 Italy, non mi ricorderò mai questo nome, nonostante io sia un admin Comunque, iscrivetevi mi raccomando perché abbiamo delle varie zone libere Che possono appunto essere sotto il vostro controllo Soprattutto nella zona del nord, Piemonte, sono tutto libero Anche nella zona verso Mantua occupata per ora, ma già Verona anche, pare Bene, bene Comunque, spazio ce n'è Ne abbiamo anche al sud Come potete vedere Che i nostri giocatori stanno condividendo le missioni Infatti possiamo notare un incendio cammino nel mare di Capri Con appunto le unità che vanno a supportare questo spegnimento abbastanza improbabile Le prime notizie riferiscono a che abbia preso fuoco una cimoniera di una nave Ecco perché la segnalazione è arrivata lì Comunque, allora, iniziamo subito Io sono a Milano, mi sono stabilito tipo Da tre giorni sono riuscito a fare un bel po' di caserme E un bel po' di postazioni 118 in giro per la città Quindi non dovremmo avere abbastanza problemi nel fronteggiare le missioni Cominciamo subito Per ora generiamo missioni ogni tre minuti Perché è abbastanza problematica la gestione di VLV e MSB Dato che vi spawneranno eventi tipo 70 codici rossi insieme Che richiedono VLV per forza Ovviamente mission ci fa gratuito Questo lo ricordo L'avevo già portato tempo fa Non so se vi ricordate, se avete visto il video Anche con il tutorial dell'icone Che avevo il mio vecchio profilo Attenzione abbiamo un incendio cucina Allertiamo subito i nostri vigili del fuoco Prima partenza e botte Stavo dicendo appunto Avevo il profilo vecchio dove mi stendevo Ero partito da Voghera La mia città originaria E mi ero stabilito un po' verso Milano Ma solo con forze dell'ordine fino a Torino Poi ho avuto dei problemi Quindi abbiamo dovuto Ho dovuto cancellare l'account E sto iniziando adesso a prendermi Ciò che era mio Nonostante alcuni giocatori ci abbiano provato Ma vedo che sono stati molto inattivi purtroppo E Milano non può essere affidato a giocatori inattivi Perché è un po' il supporto di tutto il nord Italia Quindi i mezzi arrivano prevalentemente da lì Allora vediamo un po' Abbiamo il nostro Actros che si sta dirigendo in posto Abbiamo alertato anche la botte a Darwin Non so se è un aerocargo Io non ci sto capendo niente Cerco di guardare Fiamme Blu Youtube, Google, Immagini Mi si presentano 30 mezzi diversi Quindi sto andando un po' a naso Ma sono abbastanza sicuro Che gli Actros a Milano ci siano Ogni caserma abbia un Actros proprio Ho aperto da poco la polizia locale Facciamo così Tanto che le prime missioni Generiamole al minuto Se no siamo qui ora A sentire parlare me Che non so le cazzate che potrei sparare Quindi è meglio vedere qualcosa Piuttosto che sentirmi Ciarlare a caso Qui abbiamo un controllo targhe Finisce tra 12 minuti È durato tutto un'ora E sono quegli eventi temporali Diciamo tipo le partite di calcio Che vi possono far guadagnare Un bel po' di crediti Bene L'incendio cucina Si è appena trasformato In un incendio condominio Quindi ci servono ulteriori supporti Abbiamo una persona intrappolata Quindi servirà anche il 118 Per cui attiviamo subito Autobotte Una partenza in più Attiviamo un'autoscala Da sempre Sardegna Va bene Funzionario Abbiamo gli ispettori Volendo ma ci mandiamo Il nostro Renegade da Milano E allertiamo anche due pattuglie Norm e volante Ah dobbiamo allertare il 118 In questo caso 7C C significa che serve Il trattamento di MSA Perché A e B Necessitano solo MSB Dal C in poi Serve la MSA La MSA Noi ovviamente In Lombardia Con una Reo La facciamo O abbiamo l'ambulanza Reo Che non sono sicuro Sia una MSA Ma per In gioco L'ho dovuta settare così Se no mi sparavo in bocca Quindi Facciamo le VLV Una VLV E una MSB Adesso stavo anche pensando Di aprire L'unità ospedaliera Maxi emergenza Di Milano Quelli con i Cannon da maxi emergenza In pratica Devo ancora valutare bene Come inserirli Se inserirli sotto Veicoli tecnici Vigili del fuoco O farli tipo Ambulanze MSA Per Gestire al meglio 24 pazienti Che tra poco Potrebbero anche accadere Vi ricordo che Un incidente con bus Si sblocca Con 8 postazioni ambulanze Ci sono 10 pazienti Se voi ne avete Ok 8 Ma 4 sono postazioni automediche Più 4 Postazioni ambulanze Da 2 operative Non ce la fate a coprirlo Soprattutto se vi spammano Altre missioni Diamo una controllatina In zona Italia Cosa succede Della sala operativa nazionale Allora Notiamo un sacco Di agenti in pericolo Nella zona grosseto Quindi Evitate di transitare In zona grosseto Perché sappiate Ah ma questi sono qui Da stamattina Sono qui da stamattina Non hanno fatto il trasporto Quindi sono rimasti fermi qui Noi per fortuna Che siamo admin Quindi possiamo cancellare Il trasporto E fare in modo Appunto Che vadano Che la missione finisca Qui abbiamo Uno shock annafi Rattico Non ancora Non ancora Ah si Un trasporto Vabbè Orso in questo caso Online Quindi se la vedrà lui Col trasporto Controllo ritare Che incidenti materiali Nbcr Sopra caserta Sta arrivando Comando provinciale Di Napoli Giù abbiamo visto L'incendio nave Sì Più o meno A Foggia Abbiamo una rapida In corso Dove sta rispondendo Agnone E Frosolone Sembra una marca Di prodotti Di caramelle gommosi Prendi Comprale Frosolone Allora Torniamo un attimo A noi Che la situazione Sta un po' Degenerando Un controllo Persona Controllo Persona Ci mandiamo I norm La locale La teniamo attivi Per eventi Tipo controlli Targhe Incidenti stradali O in caso Di appunto Supporto pesante Per agenti In pericolo O quant'altro Infatti Nella mia Polizia locale Per adesso Solo 4 battuglie 3 battuglie E Il Renault Master Che sarebbe Unità di comando Avanzato Ma Da spammare Appunto Nei controlli Targhe O nelle partite Di calcio Che Che condividiamo Intorno Alla provincia Novità Dal nostro incendio La VLV Sta dirigendo In posto L'ambulanza Dovrebbe Già esserci Ok È diventato verde Quindi le unità Stanno coprendo La chiamata Ottimo Così Qui abbiamo San Vittor Aula Bunker 1 Cosa vuol dire Harvester Harvester fire Si Scendiamo Trattore Vuol dire che ha preso fuoco Più del previsto Ci mandiamo L'autobotte Di Milano Attenzione Abbiamo un Ictus Codice giallo Anche questo è un 28C 28 È il numero di protocollo Mi sembra C Perciò serviranno Una MSA Dispacciamo La REU Direttamente Vai Dispacciamo L'ambulanza REU Che dovrebbe essere In colonina Ghirlandaio Si Piazza Ghirlandaio Eccola qui Hanno i lampeggianti Un po' fiocchi Però E sono così Sono 4 led Della Mizzica E appunto Facendo i lampeggianti Mi sono usciti così Perciò me li tengo Non sono icone mie Cioè Le icone con i lampeggianti Paraflesciosi Quindi questi Sono di Mimmoneri Trovate il link in alleanza Nel forum Icone italiane Ve le faccio anche vedere Così le avete Mimmoneri Eccolo qua Un google drive Ha fatto un post Lui dove appunto Spiega il regolamento E il funzionamento Del drive Non ve lo leggo Ovviamente Vi faccio vedere Dov'è Il drive dei mezzi Voi ve lo aprite Vi leggete quello Che dovete leggervi Tutto sia Lo firmate in basso E E usate le skin Che appunto Sono quelle che vedete qui Altre le ho fatte io Semplicemente Per non Crearli del traffico inutile Come in questo caso Le ambulanze Locali di Milano E alcune Alcune vetture Che non aveva fatto Tipo Polizia locale Lombardia Non è presente Sul drive Per ora Tranquilli Mi sta già romando Le icone Senza lampeggianti Per fare le icone Sparaflesciosi Quindi Non vi preoccupate Che arriveranno Abbiamo Come uno shock Un shock anafilattico Di livello D Vuol dire Che questo è gravissimo Va soccorso subito Purtroppo Non ho ancora L'elisoccorso Dato che serve Un milione Ma presto Lo dovrò comprare Perché comunque Insorevo pianura Ossia Da Pavia In su Fino a Rozzano E fino a Voghera Tutto questo cerchio Coprirlo Con 5 VLV E tipo 9 MSB Sì beh Anche un po' di più Magari 12 Non conviene tanto Perché ricordiamo Un evento 12 pazienti Vi fotte Tutti i mezzi Che avete in zona Per cui L'elisoccorso Almeno in questo gioco Permette Di ospedalizzare O soccorrere Più feriti In un determinato evento È una scorciatoia Una scappatoia Quindi è davvero utile È davvero utile Sulla mia zona Altre novità Agenti in pericolo Qua possiamo ospedalizzare Ospedalizziamo T6 Misricordi di odiarci d'osso Bene bene Adesso le unità Che erano su Dovrebbero Migrare giù E finire Questo evento O magari Eccole qua Infatti Qui abbiamo L'aeronautica militare Di Grosseto Con una V139 I cinofili Dell'aeronautica militare I cinofili Guardia di finanza Che dovrebbero Tenere dentro L'aeroporto militare Quindi Sì la zona di Grosseto È altamente Militarizzata Sulle emergenze Sia io Con l'altro profilo Sia appunto lui Che Ha fatto tutte le casarme Antincendio militari E della guardia di finanza Che sono dentro Abbiamo un camion In fiamme Servono due unità Autobotti Al momento Abbiamo tutte occupate Quindi mandiamo due partenze Cuoco in questo caso Tutte e due Fuori Via Devo ancora Come dire Espandere bene Le caserme Vigili del fuoco I distaccamenti cittadini Li ho finiti A mio avviso Sono questi Questi rimangono Il provinciale Per il momento Sto aspettando Che finisca l'espansione A caserma vera Tra cinque ore Finisce In modo che riesca A non avere più limite Di sei mezzi Di cui ho creato Un pseudo Di staccamento Per metterci Tutti gli ACT Tutti i reparti Sommostatori Eccetera Che avremo a Milano Che essendo tipo Una decina di mezzi Non posso mettermeli In partenza Diciamo Quindi sto creando Un'altra caserma Dei vigili del fuoco Sovrapposta Che questo è L'unica eccezione Che si può fare Sulla sovrapposizione Di caserma Nel senso che In alleanza Le caserme Non vanno mai Sovrappose Tra giocatori A meno che Nel provinciale Quando si è finita Ovviamente lo spazio O si vuole cominciare Una CMR Da mandare fuori Le regioni Allora si Ti costruisci La tua caserma Da zero E te la riempi Piano piano Così risparmi I credit iniziali Perché ricordo Con l'espansione Viene 100.000 La prima espansione 10 Seconda 50 Dalla terza in poi 100 Così invece Risparmi tipo Appunto 90 E più 140.000 Li risparmi Se compri Una caserma Nuova Vabbè Le chiamate Comunque Vedo che Non stanno Arrivando Più di tante Prima ero Sommerso Molto di più Non so neanche Che ora Si è fatta Sarà 13 minuti Io direi che Possiamo arrivare Fino a 20 Dai Fino Altri 7 minuti Riusciamo a Vedere Devo ancora Portarvi Rescue 2 Adesso poi Vediamo se Domani o Dopodomani Di metterci dietro Novità E mateme Sul posto Chi c'è sul posto Vediamo un po' Croce verde Civitello Roveto Una BLS Ah un defender Minchia Ci sta Io spio Molto le vostre Caserme Quindi fate Tutto A regola D'arte Si praticamente La zona del centro Tutta di orso A Napoli Abbiamo Catellix Dei Go E Miki C'è Poi Cerbero Che ha Questa zona Del Salerno Ormai Questi giocatori Sono impiattivi Quindi dicono Conosco Poi in Sicilia A Reggio Mi pare Che ci sia qualcosa Vediamo un po' Allora Febbre Un codice verde Ha mandato La CRI A aeroporto Sarà quella Che sezione Appunto In aeroporto In statale C'è uno Che ha febbre Ha chiamato Sulla statale Per dire Guarda che ho la febbre Mandami un'ambulanza E abbiamo Abbiamo un incidente Conferiti A Polistena Dunque Dovrebbero I mezzi Stanno rispondendo Ma non li vediamo In mappa Perché questo gioco È buggato Attenzione Andiamo un attimo A ospedalizzare Dunque A Reu 102 Serve l'ospedalizzazione Ovviamente Non abbiamo ancora I reparti Perché sono tutti In costruzione Questi ospedali Sono stati costruiti D'altro ieri E sì Se andate a vedere Sui fondi alleanza Abbiamo speso Ho speso un patrimonio Ma vabbè È Milano Quindi sono legittimato Difficoltà respiratorie Giallo L'icona mi dice Codice giallo In questo caso È un rossone Perché più rosso Non si può E A B C D E Vuol dire che è il più grave È un codice gravissimo Ci mandiamo la bianca a Milano E l'Altea 113 Ovviamente le icone Non sono quelle Ufficiali Ne ho fatte alcune Solo per me In teoria Poi le ho dovute aprire Un po' al pubblico Perché su due profili Non lo vedevo E hanno lo stile Di EmmaWeb Ho cercato di ricreare Appunto Lo stile A Reu Lo stile di EmmaWeb Che gira tanto Sulle nostre So Reu Quindi Più o meno Si ispirano a quelle Infatti abbiamo Un numero di scheda L'icona Dell'ambulanza Rettangolino sul posto Oppure La richiesta soccorso Con la V e la X E Per fare un po' le cose In stile A Reu Si chiama proprio così Comunque Andate a vedere Se le volete Mi faccio pubblicità Anche se non sono quelle ufficiali Poi tutto il resto Non cambia niente Perché comunque L'ho fatta io Quindi anche Incendio camion E tutti gli altri incidenti Sono sempre gli stessi Cambia semplicemente L'icona della chiamata medica Ma ce ne sono un fottio Se andate a vedere Ce ne sono tantissime altre D'icone italiane Qui abbiamo una persona caduta Codice A Quindi vuol dire Che è un bianco verde Si risolverebbe Mandando l'automedica Perché la flycar Sarebbe il dottore Che arriva Ti fa la puntura Però appunto Noi L'automedica Non la dispacciamo Per un codice giallo Per un codice bianco e verde Li mandiamo Semplicemente Una MSB Non ospedalizzerà Neanche Teoricamente Va lì Ci parla La motiva E poi se ne va Però stavo pensando Che effettivamente Le posizioni Della guardia medica Si potrebbero Inserire Con qualche Scappatoia politica Si potrebbero mettere Un po' come La polizia penitenziaria Che per adesso Non abbiamo qua A Milano Dico in gioco La messa La goria La savona Un altro giocatore Molto attivo Non è ironico È infatti online Dove l'ha messa Marina militare Ok Questa è la questura Dai c'era anche la scuola Dove cazzo è messo La Vabbè Comunque La penitenziaria Come funzionerebbe Non fa attività Di emergenza Però a volte capita Vi è già sicuramente Capitato Se giocate La missione Evasione Dai domiciliari O comunque Una qualsiasi Chiamata Che abbia Un sospetto Da portare in carcere Voi dispacciate In supporto La polizia penitenziaria E la caricate E la caricate con quella Può essere un furgone Può essere una macchina Anche la questione Tipo Di polizia ferroviaria Qua a Milano Facciamo la stazione Polizia ferroviaria Ci buttiamo dentro Il pandino E quel pandino Non fa Le pattuglie Ovviamente In caso di Maxi emergenza O richiesta Di pattuglie Estrema La dispacciamo A mio avviso Potrebbero essere gestite Così Queste Queste stazioni Caserme Poi dipende Dal giocatore Dipende anche Un po' Dall'alleanza Quindi Da noi admin Barra coadmin Che valutiamo La questione E diamo Istruzione Ai giocatori Su come comportarsi In alcuni casi 40.000 crediti Attenzione Abbiamo allora Una persona Incosciente Quindi Anche questa È gravissima Codice D Abbiamo disponibile L'AMSA Reuvi Ci mandare Quasi quasi lei Così fa tutto Lei Che è un'AMSA Lo carica Anche Lo porta via Possiamo trasportare La persona caduta Ha bisogno Di ospedalizzazione Fate bene A fratelli Più vicino Ovviamente Non abbiamo I reparti Come già detto Ma presto Diventeranno operativi Ha finito Il controllo Targ Quindi abbiamo Liberato La Fiat Bravo 1120 Che ci stava Si stava occupando Di questo evento Quindi è disponibile Ad altre chiamate Per ora Abbiamo Dieci pattuglie Su Milano Dieci MSB Una MSA E Cinque VLV Forse Uno Allora Uno Due Sì Cinque VLV Abbiamo Circa Dieci APS Vedete Il pollicchino maggiore Ha reparto Lo mandiamo qui Circa dieci APS Dovremmo avere Quattro autoscale Se mi ricordo bene Un SAF Che ho messo Appunto Nel provinciale Come avete visto Prima C'è Già lo Sprinter SAF Come polisoccorso Primario Ho messo anche Un Ducato Aria Perché comunque Adesso me lo chiede Mi chiede un veicolo Aria Mi chiede anche La chilolitrica Per cui Al momento Mi sono arrangiato Così Un carro schiuma E una chilolitrica Poi dovrò vedere bene Il da farsi Perché comunque In gioco Verrà richiesto Molte volte La chilolitrica E se mi spavano A 4 eventi insieme Io con una chilolitrica Non ce la faccio Per cui mi sono detto Mettiamo il carro schiuma Come chilolitrica Da dispacciare In altri interventi Sempre se mi danno Al carro schiuma Ma penso di sì Arresto respiratorio Che bello Anche questo è un rossone Della madonna Dispacciamo la forester Dalla di guarda Ci metterà 6 minuti Ah sì Nel frattempo Una cosa tecnica Di questo gioco Finché non arriva L'MSA Non ci sarà Trattamento Del paziente Ossia adesso L'MSB nostra La 007 Che appunto È al duomo Arriva in 27 secondi E non farà niente Non vedrete La barra Scendere E poi aspettare L'automedica Per il trasporto Non farà niente Quindi La logica Viene voglia da dire Mandiamo prima Una VLV Quando finisce E teniamo L'MSB Per codici Meno gravi Però ovviamente Questo è un po' Irrealistico E quindi dobbiamo Solbircelo così Spero appunto In un aggiornamento Speriamo tutti In un aggiornamento Che Rivedano un po' Queste regole Per renderle Un pochino più Fluide Al giocatore Perché Mission Chief Si basa Nettamente Su calcoli Matematici Quindi Unità in posto Tempo di soccorso Personale a bordo E poi Ti fa la missione Non tiene conto Delle variabili O O di altro È proprio Un gioco Matematico Che noi ovviamente Siamo riusciti A scapparci Da Utilizzando le icone Non più i graphic pack Così distinguiamo Singolarmente I veicoli E riusciamo a creare Le varie polizie O associazioni Abbiamo un incendio Camper Adesso iniziano a diventare Un po' Cumulative Ci mandiamo Maxi City E la man Che sono dentro Ah si Quando vanno a ospedalizzare Ovviamente La via LV Segue l'ambulanza Fino all'ospedale Poi si staccano Attorno In postazione Tutte e due Bene Io direi che Il video Per ora Può anche Finire qui Come primo episodio Se mai ci saranno Degli altri Ci saranno Ma magari più avanti Io vi ricordo Di Ha un soccorso a persona Bello questo Vi ricordo appunto Che mi sono C'è un browser game Ci giocate benissimo Da cellulare Internet Quindi qualsiasi apparecchio Che si collega a internet Voi potete accedervi C'è la stessa app Trovate sul play store E app store Il gioco mission chief Che è un pochino Più comodo Per dispositivi mobili Che stare sul browser Quindi è Completamente accessibile In qualsiasi posto Voi andiate Che abbia una connessione Internet ovviamente Una volta iscritti Fate richiesta Alla nostra alleanza Prima di costruire Delle caserme Contattateci prima Mandateci anche un messaggio Così vi diciamo Dove posizionarvi E una volta Che abbiamo detto Dove posizionarvi In questo caso Se mi entra uno Le dico Guarda vai Vercelli Ti espandi a Novara Casale Santia Eccetera Vigevano Mortara Eccetera Non guardate Pavia Perché sarà mia Quindi siete avvisati Non guardate Pavia Lodi si Ve la lascio Quindi da Lodi Aorti nuovi Tutto vostro Tutto vostro Anche Codogno Ma non solo Anche Sud Vi ricordo che ha scoperto Le isole purtroppo Non ci va mai nessuno Quindi Sardegna Sardegna Tutta vostra Brindisi Lecce Dovrebbe essere Tutta vostra Comunque Lecce C'è qualcuno Ma non Come vedete È solo una caserma Guardate quanto spazio avete Quindi Ci date un avviso Agli admin online Una volta che avete ricevuto Le prime istruzioni Vi mettete giù Costruite le vostre caserme Poi piano piano Vi espanderete Ci metterete un po' All'inizio Ma poi vedrete che Dopo la terza caserma Vigili del fuoco Le missioni Saranno abbastanza Remunerative Detto questo Io posso anche salutarvi Abbiamo una pagina Facebook Se volete Seguirla Per rimanere aggiornati Sull'alleanza A condividere post E missioni Ovviamente Si chiama 112 Team Mission Chief Comunque Trovate il link In descrizione Trovate anche il link Del gioco In descrizione Noi ci vediamo Al prossimo episodio Grazie per avermi seguito Qui Duelto Folle Da Milano è tutto Al prossimo video Ciao